La parola di Dio Un modo unico di ispirare ad essere forti e coraggiosi. Dio desidera che siamo confortati nel momento del bisogno. Se ti senti giù e scoraggiato, questa parola ti aiuterà e ti farà del bene, ti darà un nuovo inizio. Dio dice Abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato. Marco 11, versi da 22 a 24 Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Salmo 121, versi 1 e 2 Sia benedetto il Signore che ha dato ascolto alla voce della mia preghiera. Il Signore è la mia forza e il mio scudo. Ho posto in Lui la mia fiducia. Mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore. Con il mio canto gli rendo grazie. Salmo 28, versi 6 e 7 Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Romani 8, verso 31 Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore Romani 8, versi 38 e 39 Gettando su Lui ogni vostra preoccupazione perché Egli ha cura di voi Prima Pietro 5, verso 7 Ma ora, così parla il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele Non temere perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio Isaia 43, verso 1 La mia carne e il mio cuore possono venire meno, ma Dio è la rocca del mio cuore, è la mia parte di eredità in eterno Salmo 73, verso 26 Tu non temere perché io sono con te Non ti smarrire perché io sono il tuo Dio Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia Isaia 41, verso 10 Che Dio ti benedica Isaia 41, verso 10 A presto A presto Grazie a tutti.